Il laboratorio Covid dell'ospedale di Venere di Bari ha aumentato la sua capacità di processare tamponi e esegue da circa un mese e mezzo oltre 500 test ogni giorno. Una ventina di professionisti, coordinati dal dottore Edmondo Adorizio, direttore dell'unità operativa di patologia clinica, e dalla dottoressa Michela Jacobellis, responsabile del servizio centralizzato di citologia e screening, sono al lavoro per rintracciare la positività al virus. Attualmente, fa sapere l'ASD di Bari, è il laboratorio Covid che analizza in media il maggior numero di tamponi in tutta la regione Puglia e dall'avvio dell'attività a marzo ne ha processati 36.884. Questo grazie anche alle nuove assunzioni di dirigenti biologi e tecnici di laboratorio. L'organico adesso è composto da 18 unità, tra cui 6 biologi, 3 medici, 7 tecnici di laboratorio e 2 ausiliarie. Il laboratorio Covid del divenere inizialmente in grado di analizzare appena 36 tamponi ha accresciuto il volume di attività ed è stato individuato come sede per eseguire tamponi su base volontaria per chi proviene dall'estero o da altre regioni. L'ASD di Bari ha selezionato come sede anche l'ex CTO e gli ambulatori di Noicattaro, Altamura, Giovinazzo e Alberobello. Il tampone può essere effettuato solo su prenotazione chiamando il numero verde 800 055 955 o attraverso l'autosignalazione sul sito della regione Puglia. Hanno preoccupato poi i 13 giovani vacanzieri tornati contagiati dal virus principalmente da Grecia e Malta. Sono proprio i ragazzi a preoccupare di più tramovide e vacanze. Per questo è anche partita una campagna social con l'hashtag Io rispetto le regole per spiegare ai ragazzi i comportamenti responsabili. Siamo in pandemia, ha ribadito il professor Pierluigi Lopalco, a capo della Task Force Epidemiologica Pugliese. Occorre fare attenzione. E se per un anno non facciamo vacanze all'estero non credo accada nulla. Le vacanze facciamone in Puglia o al massimo in una regione del nostro paese.